Siamo dunque alla pagina sportiva, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria che ci parla del Perugia, dunque siamo in serie B, il Grifo adesso va all'attacco dopo l'operazione Angella, la firma attesa nel fine settimana, il Perugia coltiva il colpo Benali, tutto fatto con l'entella per buon aiuto, resta valida la pista che porta al Cipriota Castanos intanto da oggi ad Ascoli il calendario, il sorteggio scatta alle 20 e quindi c'è molta attesa e poi dal calcio al volley, sempre per parlare di Perugia, Block Devils, obiettivo Tokyo il pass per le Olimpiadi, passa da Bari, sognano 5 giocatori della Sir Perugia nel torneo di qualificazione ci sarà l'Italia con Colaci, Lanza e Russo la pressione, dicono, è tutta sulle nostre spalle torniamo al calcio, andiamo in serie C Ternana a due facce, Magallo applaude, noi senza paura mi è piaciuta la gestione, dice della situazione dopo il loro 2 a 2 sul mercato stiamo lavorando, novità entro Ferragosto più luci che ombre per il faticoso successo in Coppa sui singoli, Gallo dice, ok Nesta, Nios e Ferrante in difficoltà i difensori, intanto è ancora caos in C, ripescato il Cerignola Girone C, ora a 21 squadre con Lega Pro e Figgi C che ricorrono al Tar i calendari sono dunque da rifare, questa è la domanda del giorno restiamo in C, cambiamo però Girone, parliamo del Gubbio Ibra mi fa uno sbaffo, il talento di Alex conquista scusate, il Gubbio il centrocampista è stato tra i migliori nella goleada in Coppa un allenamento dice ma era importante non sbagliare l'approccio, intanto dal mercato attaccante in stand by in mediana c'è El Ilali fronte delle uscite Marchegiani verso il Carpi andiamo in serie D Foligno finalmente il bomber è ufficiale, buonaventura da ieri si è messa a disposizione di Armin Lei a Spoleto non preoccupa la questione stadio niente comunale, giocheremo altrove dice la società in eccellenza Angelana la forza dei giovani tanti ragazzi emersi nella stagione passata che sono il fiore all'occhiello di Sandriani intanto il DS Gervasi aspetta l'occasione di mercato dice ma non abbiamo fretta andiamo a parlare di altri sport tiro al volo Davarese bravo Franceschini è campione d'Italia nel trap Mixed T team Leonardo conquista il titolo insieme a Giulia Pintor in finale hanno battuto la coppia resca caporuscio e poi ciclismo Cicognola mette tutti in fila parliamo di questo Riccardo Cicognola che si è aggiudicato il 48esimo Gran Premio Padule di ciclismo Tennis Passaro vola in Summer Cup e in semifinale con l'Under 18 si ferma ai quarti l'avventura di Paoletti e dell'Under 16 femminile Tira a volo Foligno il padrone di casa gioia tricolore nello sporting oro nel campionato per società davanti ad un pubblico amico andiamo al messaggero da Perugia Grifo in Coppa così come sei Angella arriva solo nel fine settimana domenica contro la Triestina il Curi con la difesa che ha affrontato la Roma in stand by buon aiuto a Lentella manca il sì del giocatore caccia al tesoretto per l'assalto a Benali o Tremolada e poi ancora per le pagine del messaggero andiamo a Terni in reazione vincente l'allenatore Gallo e il patron con Bandecchi soddisfatti del finale vincente della partita contro l'Olbia a Spoleto Lucchetti allo stadio i biancorossi hanno due settimane di tempo per cercare di rimettere piede al comunale l'alternativa è andare a giocare a Labruna Foligno Buonaventura e Peluso già danno segnali di buona intesa ieri Lex Rimini e Cuchi hanno firmato l'accordo e in eccellenza Lattiferno 1919 punta in alto un progetto dice che guarda alla Serie C chiudiamo con la nazione allora da Perugia Grifo giorni di fuoco sotto Ferragosto buon aiuto ai dettagli Melchiorri in bilico sul tacquino Benale e Tremolada nel weekend arriva Angella intanto sale d'attesa stasera per i calendari della B Ternana Gallo soddisfatta a metà dobbiamo chiudere le partite e da Gubbio Mister Guidi complimenti ai ragazzi la squadra fa progressi costanti andiamo al volley a Foligni arriva Marco Vecchio San Giustino prende Giulio Cesaroni e in basso tennis Dascheggino Gerini prima testa di sedie per il volley Castello vuole il ripescaggio ci fermiamo solo per qualche davvero qualche secondo la copertina del nostro medio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.